Salve a tutti, sono le 3.20 del mattino qui a Roma, sabato non c'è più nessuno, siamo stati oggi sabato tutto il giorno nel Senato, però abbiamo vinto una grande battaglia per gli italiani all'estero, avremo l'anno prossimo 350 nuovi impiegati per i nostri consolati all'estero. Questa battaglia contro le mafie dei turni, questa battaglia per migliorare i servizi consolari la vinceremo, abbiamo evitato che tocchino la stampa italiana all'estero e poi tutti gli altri capitoli italiani all'estero mantengono i fondi che tenevano nel 2017, quindi un saluto, un auguri a tutti per questo Natale, e siamo contenti perché il MAI ha ottenuto questo risultato.